ragazzi ragazzi rieccoci qua su scorn proseguiamo da dove ci hanno lasciati la scorsa volta siamo riusciti ma abbastanza bene devo dire ad aprire sta porta anche se piccolo enigma mi ha dato un attimo un pochino un grattacapo comunque proseguiamo seguiamo di qua vediamo ci sono sicuramente altre aree da vedere ma non abbiamo gli strumenti probabilmente per accedervi seguiamo qui non so andiamo su ok non c'è neanche nessuno per ora tipo non so se ci sono nemici o altro o è semplicemente ha dei cadaveri un enorme puzzle game se per caso ci daranno un'arma ci saranno sicuramente dei nemici eh per forza se no cosa andranno a fare l'arma ok andiamo di qua non so questo è interagibile ma ci manca qualcosa tutto è un po' schifo eh pensa che posto è qui 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 è bloccato questo è un po' schifo è però è anche bello allo stesso tempo non so come dire cioè non che mi piacciono strutture del genere però c'è qui vediamo cosa ha H direzione questo coso vola qui forse ah va inserito lì cos'ho attivato infiliamo le mani dappertutto è Sì No Qua è bloccato Non si può saltare Almeno per ora Poi non so Scusa perché ci ha aperto Non c'è niente Sta cosa se poi io non posso andare Eh Forse va aperto Anche quello O è solo per farci vedere Che bisogna aprire Ancora Questo no Ah sì Ci sono altri due Tappi lì Quindi Così andiamo Così lo mando su Cosa ci sta dicendo Così Cosa succede Niente Oh usa C'è niente Così niente Ma controllo Ma no Chissà che dobbiamo In qualche maniera Fa sbucare Altre cose No Qui non c'è più niente Poi andiamo da un'altra parte Non si va Non si va Non si va Non si va Questo Ah qui Ok Ma non abbiamo Ci manca qualcosa Vedi anche qui Sono proprio piccoli Oh Quegli affari Qui Sono un attimo perso No non credo di essere passato di qua Ma no Che spavento Mi scusi Cos'è Oh un'arma Oh Viva Mi devo preoccupare Ah va Ehm Ma cos'è No 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 Ma che arma è Non spara Ah questo è dove ero prima Cioè fa così Ma si C Un paio di Stantuffate E Poi basta Non so Vabbè Servirà qualcosa Allora Anziché un'arma Una chiave Forse Qui Torniamo di qua Ma forse adesso ci abbiamo Ok Ho attivato Vedi Quello sta andando Sì Quello sta andando Dove ci serve Mi sa Adesso quei cosi Sono nemici Cioè gli faccio male Se gli do Mi ha visto Proprio brutti Ok Io Sicurezza Non arrivo fino là Però se si abbassano No 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 Sono scarico Aspetta Scarico Ah ma il fumo Forse ci dà Fastidio Aspetta Fumo Fumo Sembra vapore Eh però quello Non ci arrivo Non ci arrivo Dai Ok Ok Adesso Questo è il secondo Giù 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 No Troppo Troppo Aspetta Profondità Mi confonde Così Non va Non va Aspetta Stai così E' spento Magari va attivato Ehm No No Ma che non funziona Scusa Che l'altro è luminoso Questo no Quindi Manca Qualcosa O sono messo In una posizione Sbagliata Non credo Ah ah Ok L'ho messo in una posizione Sbagliata Ma che si è aperto Però è spento Magari adesso S'accento Non so Vediamo Sbagliata No E' semplicemente vuoto Ok ma vediamo di qua cosa c'è Anche qui è bloccato Perché è quello in mezzo mi sa che ci permetterà di andare chissà dove Eh però manca Poi senza saperlo praticamente ne abbiamo attivati due Questo Andiamo al terzo Ok Allora come prima Ammazziamoli E' partito Ok Via No Troppo lontano Aspetta aspetta Eh dai aspetta Ma come E' la profondità Aspetta Eh Quindi qua Giù No Ma l'ha preso Carichiamolo Eh ti pareva che qualcosa Stava male E' esploso tutto Lo schifo sta uscendo Allora come Ci possiamo muovere? No No Sta facendo lui, sì Ma no, quante botte E un'altra volta Devo... No, fa lui Ok Siamo finiti, boh, in un bozzo Che altri, ma... Ma dove siamo finiti? Non abbiamo più la nostra arma Arma Certo E un'altra volta Parcosa Beh È un arco... Che abbiamo già visto C'è quello di prima No, non stiamo giando In tondo, no? Boh Allora, qua c'è una struttura Che, boh, si sta sgretolando Non saprei No, sembrano due reattori Dei razzi Ma non possiamo andare Non possiamo andare Non possiamo andare Sì, non so È un po' diverso, ovviamente Ma... Ma... Questa struttura qua Per esempio Mi ricorda Proprio... Le costruzioni Delle nave Costruzioni della nave Oddio, com'è che si chiamavano Quelli lì Quelli tutti bianchi Di... Magari si ispira Non so Però non c'è niente Eh, là c'è qualcosa No, è solo un riflesso Non si può sbirciare No Non si può sbirciare Che qui è roba Forse di qua Spazio immenso Non c'è niente Ah, ma siamo a spe... Ah, siamo tornati Ok Ah, eravamo dentro Ci siamo tornati Sì Dove è esploso tutto Qui Sì Beh Qui nulla Ah, di là Beh, mi sa che... È molto guidato Cioè... Non è che poi... C'è i... Di verdi Magari Però... La via È comunque una sola Secondo me Questo... Uh C'è una bestia Non... Non è brutta Come cosa Ah, ma bestiolina Dai Stia lì Che si faccia I fatti suoi Io torno al mio lavoro Grazie Ah Mi stava aspettando E io non ho modo Di difendermi Però Quindi Ah, però Non è interessata Ad attaccare Bene Non so cosa sia Questo possiamo No? Ma prima Era pa Aspetta Non lo so Qui Non... Non lo si può Prendere Qui Oh Piccolo Ceco Possiamo aprire? No No Anche qua Ma Forse Devo fare qualcosa lì Aspetta Eh Questi vedi Non si vedeva Che erano interagibili Direzione Direzione Uso No No Ah Lì si Aspetta Devo mettere In ordine Gli anelli Vabbè Piuttosto semplice Questo Ok Forse ho attivato qualcosa Aspetta Qui Qui No No Così non mi da il tempo Scusa Ma fa lui? Aspetta, no Corri, corri No Aspetta Andiamo di qua Non mi ha aperto qualcosa Un ascensore Non c'è nient'altro, no Non c'è niente C'è niente Non non l'ho Non non l'ho Ok Cos'è sta roba? Oh E di là? Ma cos'è? Scegliamo Ah, scegliamo la via Ma dovemmo sicuramente andare in tutte e tre Allora aspetta Secondo me Andiamo alla prima Questa qui Ok Ok Questo si muove Ah, questo si muove Aspetta Lì No Non l'ho preso Preso Ah, ok Lì Preso Di qua Preso Tiè Ok Ho attivato qualcosa giù, forse E qui Eh, qualcuno però è arrivato fino qua Ah, non ci abbiamo Oh Non ci abbiamo la chiave Quindi dobbiamo riottenerla Per forza Ebbè Ma se io andassi Ehm Aspetta Qui è bloccato Ah, qua è bloccato Di qua 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 dovrò fermarlo forse O rallentarlo Non si crea un varco Ogni tanto Ma Oh Vabbè, ho capito che tu per il momento Fai parte dell'ambiente Ma magari stai Ci stai indicando la via Forse E io vado da tutta l'altra parte Eh, eh Qui Niente Oh Alla fine Dobbiamo andare di qua Eh, vabbè Ah Aspetta Quindi dentro quei cosi Oh Ci sono delle cose Ebbè Uonoidi Eh, ma qua Sembra che Allora Sono uscito da dove No Da là Ah, è qua Io ristacco tutti e tre Ah, vedi che si sta fermando Aspettavo qualcuno dietro E infatti Guardalo lì Ma che ti vedo, eh Però Non No Oh Ah! Cosa ci ha fatto Non ho capito se Ah E Su di noi Ma ci ha dato questa però No qui niente Qui niente E' schifo però eh Ma io non volevo un ospite Sulla schiena Probabilmente Ehm Aspetta No qui niente Qua abbiamo fermato Quindi adesso possiamo passare Ma Dove sbocchiamo Qua Ok qua Se ne muovono due No sempre uno Ok quando sente il tac E' il punto giusto Ok 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 Preso Secondo me Qua Qua Ok Ho fatto qualcosa Qui c'è Un ascensore Noi lo prendiamo Hò Ehm Mmh Mmmh Aspetta Ah ok Siamo ritornati Qui No Non abbiamo ancora la chiave Aspetta No Ero andato di là Di qua però Non so se avevo Si avevo visto Mi sa Perché adesso con questo Possiamo fare qualcosa Ma tre ne abbiamo Mossi Ma No Ah però Aspetta Erano Ne mancherebbe uno In teoria Abbiamo saltato qualcosa Aspetta Aspetta Lo riprovo Oh sono qui No No non possiamo fare niente Secondo me Secondo me Devono Tutti e quattro Scendere Si Secondo me Abbiamo saltato Una zona Devo andare a rivedere Devo andare a rivedere